L'ex fornace Penne è stata posta sotto sequestro preventivo da alcune settimane da parte dei carabinieri della sezione tutela patrimonio culturale di Siracusa e dai militari della compagnia di Modica su disposizione del GIP del Tribunale di Modica, su richiesta della procura Iblea per un'inchiesta che vede indagate 21 persone, gli eredi dell'immobile storico. Ora non si deve correre il rischio già prima esistente che nessuno si occupi del recupero del sito di archeologia industriale che sorge sulla scogliera del Pisciotto, scrive in una nota l'onorevole Orazio Ragusa, piuttosto il provvedimento della magistratura deve spingere il Comune di Scicla ad attivare tutte le procedure necessarie per cercare di acquisirlo al proprio patrimonio, intercettando i fondi del patto per la Sicilia ora che siamo in prossimità della pubblicazione dei relativi bandi per ottenere le risorse necessarie alla salvaguardia. Il deputato Orazio Ragusa, che torna a occuparsi dell'irrisolta questione per far sì che l'ultimo in ordine di tempo provvedimento adottato dalla magistratura fornisca lo sprone per cercare di risolvere la situazione una volta per tutte, se prima e in più di un'occasione, chiarisce il parlamentare Lars, ci si rivolgeva sempre alla proprietà per chiedere la messa in sicurezza con risultati che sono sotto gli occhi di tutti, a maggior ragione adesso che il sito è sotto sequestro, sembra improbabile che si possa agire nella maniera più efficiente per garantirne la tutela. Proprio per evitare che la situazione per quanto concerne il degrado possa ulteriormente peggiorare, è opportuno che si configuri un percorso che con l'attenzione dei tecnici e del Comune su input della Commissione straordinaria individui quali le tappe ideali per cercare di eliminare le anomalie esistenti e soprattutto per trovare le risorse economiche che garantiscano il recupero necessario alla fornace e questo potrà accadere soltanto se l'ex fornace sarà acquisita al patrimonio culturale. Ripetiamo da 30 anni le stesse cose, sancisce Raguse e conclude. Non ci sono dubbi sul fatto che con la nuova programmazione comunitaria e soprattutto con le risorse del patto per la Sicilia si potrebbero aprire numerose opportunità. Grazie. Grazie.